Maresciallo è responsabile di commettere i diritti, mi può guardare per proteggere? In base a 383 del codice penale procediamo al suo arresto, il nome del popolo italiano procediamo al suo arresto, chiamati a Maresciallo dei Carabinieri, maresciallo! Si è terminato la resta, Maresciallo! iamate, Maresciallo! Chi è lei? Mandiamo a dire.